e ciao a tutti amici sono franco versa non mi conosci o non sei iscritto al mio canale e allora cosa aspetti iscriviti oggi faccio vedere un amico che ha seguito un video che avevo fatto vi ricordate dove mantenevo dei colori di una bandiera per esempio e tutto il resto andava in bianco e nero se non ve lo ricordate premete sulla i in alto a destra e potrete vedere questo tutorial ma lui seguendo il tutorial ha detto io devo scontornare un bicchiere con un drink e non capisco perché quando metto il movimento il la maschera il colore va fuori quindi non segue il bicchiere bene andiamo proprio a vedere questo esempio io cerco sempre di ricostruire la vostra situazione così da risolvervi il problema ho preso questo bel video con questa ragazza ecco qua e dove abbiamo appunto anche il movimento del bicchiere quindi vado un po accorciarla e prendiamo questo passaggio qua tanto lungo o corto è indifferente andiamo a fare tutto nella color quindi nella page color clicchiamo qui ed ecco qua il nostro video già ingrandito con rotellina del mouse vi ricordo possiamo entrare dentro e andiamo a prendere il bicchiere questo possiamo farlo in qualsiasi punto non ha importanza quindi possiamo portarci dove il bicchiere si vede bene pulito e possiamo entrare all'interno cosa andiamo a fare prima cosa duplichiamo il nodo quindi clicchiamo qui sul nodo alt s e creiamo un duplicato seconda cosa andiamo come facevo io a prelevarci il colore quindi con il qualifier clicchiamo e andiamo a selezionare tutto il colore non vediamo nulla perché non abbiamo attivato qui quindi cliccando qua possiamo vedere solo il colore selezionato come vedete purtroppo abbiamo un rosso cosa succede andrà a prendere cose anche del rosato della pelle vedete che anche qua abbiamo tirato dentro le labbra ad esempio che sono dello stesso colore ok quindi possiamo intanto qui magari farci un po di boost amplificare un pochino il colore seconda operazione che facciamo è ricorrere alle power windows quindi ci spostiamo qui sulle power windows andiamo a prenderci ad esempio una penna così e andiamo a scontornare così il nostro colore lì facciamo più punti e scontorniamo il colore vedete che abbiamo ripulito da quello che sono le altre cose cioè il viso e le labbra la mano e spariranno ricordatevi che per muovervi bisogna schiacciare la rotellina e tenerla premuta e ecco qua inoltre sempre sulle power windows ora possiamo andare a prendere meglio il nostro segnale allargando allargando alla saturazione allargando tutte le varie aree di luminosità anche di colore in maniera da andare come vedete a selezionare il meglio possibile il nostro cocktail eccolo qua e attenzione magari qui vedo un po le dita quindi con la power windows posso andare a ritagliare un pochino così meglio magari applico un leggero soft appena appena adesso cosa faccio perché il problema dell'amico era adesso ritorno normale intanto abbiamo tutto colorato perché non posso mettere questo in bianco e nero mettendo questa in bianco e nero se io tolgo i colori qui li tolgo anche della seconda essendo giustamente in cascata quindi ritorniamo al 50 per cento vado a fare un nodo esterno a questo quindi tasto destro vado su aggiungi nodo e faccio outside il nodo outside sarà l'esatto contrario di questo cioè quindi avrò tutto attorno tranne il bicchiere quindi se ora qui vado a fare un bianco e nero come vedete dove ho il buco vedo attraverso subito questo qui perfetto ricordatevi che siamo a 109 guardate adesso cosa succede se mettiamo in play è successo che la maschera è stata ferma dove eravamo vedete si vede proprio il passaggio attraverso la maschera perché tutto in bianco e nero e la maschera è solo in quel punto abbiamo detto 109 dove l'abbiamo disegnata quindi torniamo un attimo a questo nodo qui che è quello che ha la power windows e dobbiamo fare un'altra cosa cioè il tracking di questa maschera quindi ecco dove l'amico saltava il passaggio ecco non voglio dire sbagliava ma saltava il passaggio quindi vado a posizionarmi sul tracking e adesso vado a cliccare tracker windows vedete importante vado a cliccare questo che farà il tracking della mia maschera sia in avanti che indietro non solo in una direzione ma in entrambe all'interno della clip quindi clicco qui vedete che la maschera sta seguendo torna indietro e lo rissegue fino al viso e adesso abbiamo tracciato la nostra maschera andiamo a vedere il risultato finale metto in play la mia clip e adesso ho ottenuto ciò che desideravo da qua potrò andare ad agire finemente cioè ritornare in questo e verificare se magari in questo punto la maschera non fosse troppo stretta potendo creare dei keyframe quindi vedete keyframe sulla maschera in questa maniera creando dei keyframe posso eventualmente come avete visto aggiustare la maschera ecco qua torno in timeline e ho il mio effetto pulito finito poi in alcuni casi potrebbe risultare un po più difficile un po più facile a seconda del colore della scena del drink eccetera sicuramente se la scena presenta tanti colori uguali al drink la cosa si complica molto quindi pensate anche a dove creare questo effetto ad esempio se andavo a prendere dove la ragazza ha il bicchiere vicino le labbra sicuramente la cosa sarebbe stata più complicata perché perché se vado allargare vedete come prende subito di più la pelle e quindi avrei dovuto fare una selezione molto più accurata nella saturazione nel colore e in altre cose che nella luminosità vedete come comunque tende a prendere lo stesso le labbra perché sono giustamente dello stesso colore anche perché lei sta bevendo bene io vi ringrazio spero che anche questo tutorial vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao